Quindi se siamo organizzati per competere con un prezzo più basso per carità può anche darsi che vada bene così, nel senso che a fine anno io comunque anche vendendo prodotti a basso costo con bassa marginalità mi resta qualcosa per quella che è la mia struttura, per carità. Però se sei strutturato, se hai un'azienda, se hai una produzione, se hai dei dipendenti, se devi fare una serie di cose, è chiaro che o cerchi di differenziarti completamente da quello che fanno tutti quanti gli altri o se no sei costretto a rincorrere perennemente quello che sta accadendo intorno a te. Quindi benvenga, non è vero che quelli dell'est non sono organizzati, così come vi posso garantire che non è nemmeno vero che anche la grossa distribuzione, anche loro si stanno organizzando. Ma perché? Perché stanno comunque acquisendo delle figure degli artigiani che per carità il loro lavoro lo fanno e lo fanno anche piuttosto bene. Naturalmente gli mancava tutta la parte di gestione che è fondamentale in un'azienda, in una piccola officina. Gli mancava tutta la parte di marketing e di comunicazione che vent'anni fa non si faceva perché tanto si vendeva grazie al passaparola e si vendeva con altri strumenti. E che cosa fanno? Si accontentano, tra virgolette, di andare a fare il posatore per la grossa, il posatore piuttosto che il rilievo misura, quindi tutta la parte di servizio per la grossa distribuzione. E guarda caso, se uno poi va a tirare le somme, a fine anno sono molto più felici di quello che fanno adesso rispetto a quello che magari facevano fino a qualche anno fa. Quindi anche la grossa distribuzione si sta organizzando, nostro malgrado. E soprattutto un'altra cosa importante è la grossa distribuzione, a differenza nostra ragazzi, ha dei numeri importanti. E se vuole, anche vendendo sotto costo, in ogni caso messa nel calderone di tutte quelle che sono le attività, di tutti quelli che sono i prodotti che fanno, dove la marginalità è molto più alta magari rispetto ai serramenti, sono nelle condizioni per un anno, per due anni di andare avanti. Noi non lo possiamo fare, nel senso che ovviamente diventa complicato. Grazie mille. 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 Grazie mille.